Ciao ragazze bentornate sul canale, riprendiamo nel 2019 a fare la tipologia di prodotti preferiti del mese quindi questo mese è passato, è gennaio 2019 riprendo a farla perché secondo me comunque è un modo che ho per farvi vedere realmente effettivamente tutti i prodotti che mi sono piaciuti senza rischiare di dimenticarmi di parlarvi di qualcosa rispetto agli anni precedenti inserisco solo prodotti beauty, quindi make up, skin care, hair care non so, fatemi sapere voi, ho paura che diventi un video troppo lungo se inserisco anche libri, anche serie tv e film prodotti lifestyle o comunque accessori moda, però non lo so, per questo mese decido io e non li inserisco se invece vi interessano fatemelo sapere che così a febbraio ci organizziamo e iniziamo dalla skin care, partiamo dalla bc e partiamo dalla detersione nuovo detergente che sto usando già da un po' di settimane, da quando mi hanno inviato questa novità è un detergente di origin, si chiama cheeks and balance, quindi guance e balance ed è una mousse, ma è una mousse molto spessa, ne basta veramente la dose è quella di un chicco di caffè non esagerate perché si emulsiona tantissimo e diventa molto schiumogena sul viso cosa faccio? io ne metto appunto un chicco di caffè sui polpastrelli, bagno e massaggio bene tra le dita massaggio bene tra le dita e vado a detergere tutto il viso dopo aver passato l'acqua micelare quindi dopo essermi già struccata e tolta via dal viso il grosso del makeup che avevo quel giorno anche se non ero truccata lo faccio comunque essendo una mousse non è secondo me un prodotto che va bene con una spazzolina elettrica io non ho provato ma preferisco i detergenti in gel che diventano schiumogeni non le mousse per i clarisonic cosa fa questo detergente? questo detergente riconosce in maniera intelligente le zone del viso secche da quelle messe quindi riesce a portare l'idratazione nelle zone secche, le mie sono queste qui e comunque a bilanciare la produzione di sebo nelle zone miste, quindi nella zona T è vero, è vero e sapete da che cosa me ne accorgo? me ne accorgo dal fatto che quando poi sciacco il viso quindi rimuovo la mousse, do una sciacquata un attimo veloce al viso e vado ad asciugarmi non ho la sensazione che alcune zone del viso mi tirino, quindi che siano troppo secche e non ho la sensazione di avere usato magari un prodotto troppo idratante che quindi non mi ha opacizzato bene la zona cioè sono uniforme, non so come dirvelo però è proprio più una sensazione mia di come sento la pelle quindi mi piace molto, ve lo consiglio se avete una pelle mista e volete provare un detergente è un detergente, non è uno struccante, quindi non rimuove il trucco quindi prima struccaggio e poi detersione passiamo a un altro prodotto di skin care e passerei al mio amore incondizionato per questo contorno occhi questo è il mio nuovo contorno occhi, è di Ole Ericsson, fa parte della linea Truss che è quella arancione ed è il Banana Bright Eye Cream è un contorno occhi che sto usando da forse un paio di mesi, ma un mese sicuro prima lo utilizzavo solo la sera, ma mi piace talmente tanto la consistenza e come riesco a massaggiarlo, che ho iniziato ad usarlo mattina e sera a base di vitamina C e collagene perché si chiama Banana Bright? perché deve ricreare a livello cosmetico l'effetto della Banana Powder quindi quell'effetto molto levigato del contorno occhi quello che mi piace, a prescindere da quello che promette, è la texture allora, poi vi faccio vedere da vicino la texture è una via di mezzo fra... no, anzi, non è una via di mezzo è la versione più leggera tra... anzi no, è proprio la via di mezzo, scusate tra l'All About Eyes Rich e l'All About Eyes normale di Clinique l'All About Eyes Rich di Clinique è il mio contorno occhi fra i miei contorno occhi preferiti quindi questa è la via di mezzo cioè è più tendente al rich, ma non è così ricco e quindi non ha bisogno di essere così scaldato e massaggiato e non rimane comunque... il contorno occhi non rimane umettato è proprio la texture... la mia texture preferita ecco, se avessi dovuto creare un contorno occhi io avrei creato una texture così massaggiabile, nutriente che vi dà comunque la sensazione di... coccolosa un po' di massaggiare il contorno occhi ma allo stesso tempo si asciuga fantastico passiamo alla mia ossessione del mese di gennaio sono state le maschere viso sono state le maschere viso perché appunto ho avuto un attimo di defiance la mia faccia ha avuto un attimo di defiance è diventata improvvisamente secca con quel super freddo che è arrivato nelle prime settimane del mese poi ho fatto reazione allergica all'avena e a tutte le graminacee che mangiavo quindi bye bye porridge non ho posto più mangiare la mattina almeno per un periodo e... quindi mi sono ritrovata con mezza fa... con bollicine macchioline zone secche dove prima non avevo zone secche quindi che ho fatto ho spianato tutta la mia skin care quindi quello che stavo facendo per quello che ancora non vi ho fatto il video perché siamo... cioè siamo sono in una fase un attimo di assestamento quindi ho ridotto all'osso tutto quello che stavo usando ho tolto agli essenziali ho tolto attivi molto forti e mi sono un po' coccolata con delle maschere questa era la premessa parliamo di maschere le prime due maschere sono delle maschere in barattolo e sono le mie maschere preferite da mesi sto parlando della linea Double B che è uscita da qualche mese con due maschere una maschera viso anti-age e una maschera viso purificante la maschera viso anti-age è la mia preferita fra le due ma cosa ho fatto? le ho usate insieme quindi mettevo la maschera viso purificante dove comunque avevo delle zone che lucidavano improvvisamente tantissimo e l'anti-age dove invece avevo tutto il resto delle parti del viso che non avevano bisogno della purificante hanno un profumo buonissimo un inci perfetto non gli potete dire niente perché è un inci impeccabile quindi se siete amanti degli inci bio comunque molto attenti le potete usare sono QW3 free comunque sono delle maschere veramente meravigliose mi piacciono un sacco le faccio proprio con piacere l'altra aspetta eccole qua l'altra sezione di maschere riguarda le maschere in tessuto perché non sempre ho voglia di applicarmi la maschera col pennello poi di risciacquarla eccetera eccetera quindi mi sono convertita le maschere in tessuto e ne ho di tutti i tipi adesso qui vi ho fatto vedere le mie preferite di questo mese però veramente ne faccio di ogni vi segnalo quelle di Origins che sono molto molto buone questa è l'ultima che mi è rimasta avevo fatto una scorta in aeroporto e questa è la Softening Sheet Mask mi sono piaciute tantissimo le avevo usate anche in vacanza queste estate mi piacciono ci sono di vari colori la mia preferita 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 è quella blu e poi le Dr. Jar le maschere di Dr. Jar sono una scoperta di quest'anno perché veramente mi piacciono tanto soprattutto le idratanti quindi la Susing e la Vital queste due queste due sono quelle che ho usato che uso più spesso quando devo usarle una maschera con tornocchi ce l'ho anche questo mese ed è questa di Sepai Sepai un brand che io non avevo mai provato sono andata in profumeria quando ho preso il profumo di cui poi parleremo e ho visto queste maschere sul bancone non ho provato nient'altro del marchio se non dei campioni che mi hanno dato che mi sono piaciuti veramente tanto quindi non so di voi chi tra voi chi lo conosce ma fatemi sapere queste sono le maschere per il contorno occhi sono due patch per confezione non sono economiche siamo sui 20 mi ricordo se 20 o 29 comunque siamo lì e sono delle mascherine proprio Super Radiance and Moisture quindi idratanti e illuminanti siete proprio così cioè mi ricordano quel cartone animato chi sono quella famiglia di chi sono gli invincibili non lo so comunque avete capito a chi vi riferisco mi sono piaciute tanto perché il prodotto è imbevuto tantissimo in questo mix idratante e illuminante si applica bene nonostante la forma io non amo molto queste forme perché è un po' poi complicato andarle ad applicare una volta rimossa la mascherina voi massaggiate tutta la zona quindi tutta questa zona qui e io ho avuto un contorno occhi tonico rimpolpato idratato luminoso per un paio di giorni meraviglioso un effetto meraviglioso infatti mi sa che me ne ricordo passiamo al make up prendo tutto ci sono un sacco un sacco di cose ok allora no faccio cadere tutto iniziamo da una palette gigante e sto parlando della palette di hourglass la ambient lighting edit unlocked perfetto che cos'è? è una palette con 6 cialde best seller loro viso hourglass comunque ogni tanto ripropone queste palette per il viso dove racchiude appunto le 6 cialde di polveri più più famose abbiamo due polveri per due ciprie un bronzer due blush e un illuminante con questa palette fate tutto fate anche un make up occhi molto naturale ovviamente le uniche polveri che non uso io sono le ciprie perché non mi piacciono non mi piacciono queste due ciprie preferisco ciprie diverse e il bronzer lo uso per fare contouring quando sono stata adesso quando sono stata via recentemente non avevo portato il blush perché questo mix di due blush rende un colore tipo lovejoy di MAC l'illuminante illumina ecco non lo vedete dalla luna però è un illuminante che comunque illumina con una sola palette di queste dimensioni voi dovete fare cioè dovete potete fare tutto sia make up viso che make up occhi ed è super consigliata approfittate magari di uno sconto quando avete lo sconto da sephora perché questa qui l'ho presa io su sephora spesso c'è il 20% quindi ve la accaparrate altra palettina invece è una palettina occhi ed è la pillow talk di Charlotte Imburi questa è la paletta di Hourglass le avete viste nell'ultimo Get Ready With Me quindi andate a vedere quello per vederle in uso mi piace tantissimo la ricomprerei 50.000 volte nonostante il costo di 50 euro per 4 colori la ricomprerei perché è una palette versatile fate moltissime combinazioni di trucco da un trucco leggero è un trucco naturale è un trucco di contouring quindi strutturato per dare comunque volume all'occhio è anche un trucco un po' più da sera perché abbiamo questo bel marrone che con questo top glitterino e tanto mascara è bellissimo le polveri le polveri sono a prova di poco tempo e poca abilità penso che anche a parte che fa tantissime combinazioni di colori quindi sicuramente se volete provarla magari non vi piace il pillow talk ci sono tantissime altre combinazioni che potete potete scegliere è la palette perfetta per chi non ha tempo la mattina perché le polveri sono veloci pigmentate quindi anche una sola passata veloce di ombretto di polvere scrive e facili da sfumare fra di loro cioè sono veramente adatte anche a chi non ha quella manualità allenata per sfumare gli ombretti secondo me sono da provare sono innamorata di questa palette veramente tantissimo poi poi passiamo a un prodotto per la base vi parlo di questo fondotinta di Vroshi questo è il super matte zero defoe è il nuovo fondotinta super matte uscito io utilizzo la colorazione beige 200 che è perfetta per me è un fondotinta matte matte ma che allo stesso tempo zero imperfezioni utilizzo la colorazione beige 200 che è perfetta per me è un fondotinta matte matte ma che allo stesso tempo uniforma in maniera molto naturale è veramente matte io lo applico con la Real Techniques quindi con la spugnetta non ho bisogno della cipria non ho bisogno della cipria perché nonostante io non vado ad utilizzare una cipria quindi su una pelle missa questo fondotinta non fa una piega resta perfetto ma resta perfetto non quel quell'effetto comunque di fondotinta matte un po' pesante no resta proprio come la seconda pelle cioè come se fosse voi a esservi svegliate così quindi mi piace ve lo consiglio ve ne parlo in questo video nonostante io stia facendo delle review specifiche su vari fondotinta nel corso appunto di questo periodo a venire perché ve ne avevo già parlato su instagram invece per la categoria base perfetta non ve ne vi parlerò di altri fondotinta magari non di questo questo l'avete visto in uso e nell'instagram stories dovrei averle anche salvate in evidenzia nella cartella make up però mascara il mascara della vita perché mascara è il primer base per le ciglia che sto amando voi vi ricordate vi avevo fatto una testa così sia per quello di dior che per quello di smashbox adesso ve ne faccio una ancora più grande per questo qui di urban decay è il sub version lash primer è questo qui mi piace vi devo dire la verità di più delle altre due per un semplice fatto che la spazzola è in setola non è nell'assomero quindi prende tantissimo prodotto e lo applica in maniera però non grumosa quindi riuscite ad avere una quantità di prodotto ben pettinata ma allo stesso tempo tanta che una volta che andate poi a truccare a mettere scusate il mascara nero o marrone insieme a quello che mettete è perfetto avete questo padiglione ciliare cerbiattoso aperto voluminoso stupenda sapete che le basi bianche per mascara io le chiamo salva mascara perché anche quando avete un mascara che non vi piace tanto se avete una buona base sotto quel mascara diventa provatela mi piace moltissimo l'ultima cosa che vi faccio vedere di makeup è questo gloss che sto indossando anche in questo video sento ancora un po' pizzicare perché è un gloss rimpolpante un lip plumping gloss della wonder wonder true è la marca questo è il wonder kiss lo trovate su amazon o sul loro sito io l'ho preso da amazon perché avevo fatto una ricerca gloss rimpolpante e questo era tipo il number one il best seller venduto da loro fanno tantissime colorazioni quella che ho io indosso è la rosa allora è un gloss rimpolpante che ha questo sapore ha questo odore di menta ma una menta dolciosa cioè è quasi dolce il sapore nonostante sia mentolato pizzica nei primi secondi e poi avete questa sensazione di da proprio più fresche perché è quel il mentolato che esce fuori ma mi piace perché rispetto anche a faccio per dirvene uno il lip maximizer di dior che io usavo prima di questo questo ha un effetto veramente rimpolpante c'è un effetto molto pieno molto turgido delle labbra e pizzica ma non è fastidiosissimo e soprattutto il colore si vede io non ho messo niente avevo il burro cacao quando mi sono truccata l'ho tolto e ho messo questo e comunque il color rosa si vede infatti sono curiosa di prenderne altri vengono sui 24 euro e 90 però sono 4 ml quindi comunque l'ingloss ci sta e mi piace mi piace tantissimo e ve lo consiglio soprattutto perché a differenza anche di quell'altro che vi dicevo ma comunque in generale dei gloss rimpolpanti e dei gloss in generale non è appiccicoso è un avvenimento fra un gloss un balsamo e un olio per farvi capire però voi non avete la sensazione di di qualcosa di di appiccicoso proprio sulle labbra quindi mi piace io ce l'ho in borsa e lo metto sempre categoria capelli categoria capelli vi inserisco questo questo è un balsamo della linea catwalk di tigi il balsamo ha l'avena e miele è un nutriente per capelli secchi danneggiati e basta e sfibrati l'ho preso da utilizzare su questa parte questa qua su questa parte dei capelli perché su tutto il resto dato che avevo avuto un altro periodo di dermatite sto utilizzando dei prodotti specifici che mi hanno mi hanno dato però mi mancava il balsamo mi mancava la maschera e quindi siccome mi sono trovata benissimo con i prodotti tigi quest'estate quando avevo fatto i capelli decolorati avevo usato tutta la linea viola la linea viola è la linea proprio per capelli con mesh decolorati eccetera ho voluto provare questo perché è uno dei più nutrienti mi sto trovando bene mi sto trovando bene perché non me li cioè io li ho lavati ieri ho messo solo questo perché non sto mettendo né oli né nient'altro e riesco a sentirli ancora morbidi ancora nutriti i saloni che usano tigi oppure la trovate su amazon la trovate su maki beauty tra l'altro vi lascio un codice sconto se volete comprare qualcosa da maki beauty perché ho un codice sconto nel 10% quindi ve lo scrivo giù nell'info box comunque anche su amazon lo trovate lo trovate anche nei negozi insomma questa linea mi sta piacendo non ho potuto provare lo shampoo perché sto usando quello specifico e quindi pazienza ultimo prodotto è un profumo montale sweet oriental dreams questo profumo io l'avrò corteggiato per non so non so veramente quanti anni perché prima di chocolagridi cioè quando ho comprato chocolagridi ero andata per prendere questo ho provato questo ho provato chocolagridi poi avevo fame evidentemente quel giorno quello mi piaceva di più e quindi ho preso i chocolagridi sweet oriental dream mi è rimasto qua tant'è che a natale è stato uno dei miei regali di natale è difficile da descrivere perché c'è questa mandorla che si sente tantissimo con con molto mielata molto dolce ma allo stesso tempo molto femminile loro che lo considerano un profumo di sé è strettamente femminile è uno dei profumi più persistenti che io abbia nella mia collezione o che abbia usato dura tantissimo lo mettete la mattina io la sera vado a letto e me lo sento ancora lo sento ancora sulla pelle non vi dico poi sui maglioni sul quale lo vaporizzo sulle sciarpe sul cappotto continuo a sentirlo per giorni e si sente uno di quei profumi che lascia la scia lascia la scia non in maniera volgare ma in maniera delicata però si sente cioè lo vaporizzo magari che ne so in bagno scendo giù torno su io per le scale lo sento quindi Sweet Oriental Dreams è diventato The Dreams a realtà bene ragazzi dopo questa possiamo chiudere qui i nostri preferiti di gennaio ci vediamo al prossimo video fatemi sapere se volete che inserisca anche le altre categorie sono diventando sto rimanendo senza voce al prossimo video grazie a tutti